Ebbene sì, anche oggi sono qui per parlarvi di un prodotto da casalinga, ma non preoccupatevi perché come al solito si tratta di qualcosa di smart per la domotica come piace a noi. Infatti qualche giorno fa Onniture mi aveva chiesto se volessi provare questo modello Q5, ovvero sostanzialmente la versione entry level rispetto al Q6 che avevo già provato qualche tempo fa, ovvero lui. Quindi ne ho approfittato per registrare questo video dove andrò sia a parlare di lui, sia a fare un confronto con un modello di fascia più alta per farvi capire se volete andare ad acquistare un prodotto di questo tipo, se per voi conviene spendere di più per avere determinate funzioni o sono delle cose a cui potete fare tranquillamente a meno. Bene, ma detto questo direi di iniziare subito a vedere quali sono le principali differenze. Come prima cosa, una cosa che salta subito all'occhio è lei, ovvero la base di ricarica. Come potete vedere in questo caso è davvero molto ma molto più compatta. Sotto certi punti di vista devo dire che è una cosa positiva perché questa base potete infilarla tranquillamente sotto un mobile, sotto un divano, sotto un letto e non vi occupa dello spazio aggiuntivo in casa. Ovviamente sì, poi dovete andare a vuotare manualmente il suo serbatoio che vi faccio vedere. Si trova come sempre nella parte posteriore, è questo qua, è abbastanza capiente quindi due barra tre pulizie riesce a farle tranquillamente. Per quanto riguarda come è fatto effettivamente il robot vi faccio vedere che è molto simile allo scorso modello. Infatti troviamo sempre le due spazzole rotanti laterali, le due ruote motrici e questa spazzola che è quella che va effettivamente ad aspirare. Qua sotto ci sono sempre i sensori per evitare che vada a scivolare giù dalle scale e tutti gli altri sensori sostanzialmente si trovano in questa parte frontale. Vedete che non c'è qua in alto la torretta per il laser, infatti purtroppo lui non ha la mappatura degli ambienti. Se vi ricordate era una cosa che mi era piaciuta davvero molto nell'altro modello, purtroppo qua non c'è. Per sopperire a questa mancanza diciamo che viene incluso nella confezione anche questo piccolo telecomando che serve per mandarlo dove avete bisogno, per fargli pulire solo determinati posti e quindi fare alcune cose direttamente da questo telecomando ad infrarossi. Rimane comunque l'applicazione per smartphone che è sempre la solita ovvero ogni smart che trovate sia su Play Store sia su App Store. Anche in questo caso bene che ci sia l'integrazione con Google Home e Amazon Alexa per usarlo anche tramite i comandi vocali ma c'è un'altra cosa che non troviamo sul modello di fascia più alta che qua invece troviamo, ovvero questo bel serbatoio bello grosso, infatti ci dovrebbero stare tipo almeno 350 millilitri, è un upgrade davvero molto importante rispetto all'altro modello che mi ha fatto piacere vedere. Infatti lui potete riempirlo, vi dice anche quando va ad esaurire l'acqua quindi non dovete stare lì tutto il tempo a guardare il robot. E un'altra cosa interessante, esiste una vera e propria modalità di lavaggio diversa dalla pulizia normale perché quando andiamo a togliere il sacchetto della polvere e andiamo ad infilare questo lui capirà in automatico che deve switchare la modalità quindi deve passare alla modalità lavapavimenti. Bene ma ora che abbiamo visto come è fatto questo robot che cosa ne penso? Beh diciamo che ci sono alcune cose che mi sono piaciute davvero tanto, altre che invece un po' mi. Nel senso per quanto riguarda la potenza di aspirazione devo dire che è davvero ottima, lui è molto più silenzioso nella modalità normale anche rispetto al Q6 che teoricamente dovrebbe avere una potenza maggiore di aspirazione però per quanto mi riguarda sembra che aspire quasi meglio a questo. Infatti dopo ogni pulizia il sacchetto è sempre bello pieno, non lascia troppe cose in giro quindi davvero molto bene. Il problema principale per quanto mi riguarda è che ha un po' di problemi con i tappeti e ostacoli di questo tipo. Nel senso se è un vaso, se è una sedia, se è un tavolo ok ci gira attorno come lui e va bene. Però per i tappeti anche quelli gommati che il Q6 non aveva mai avuto nessun problema lui si incastra abbastanza facilmente perciò se lo fate partire dovete togliere praticamente tutto. E un'altra cosa da tenere in conto è che quando lui si blocca oppure quando andate a spostarlo con il suo telecomandino purtroppo si resetta la mappa di dove è già passato. Quindi potrebbe ripassare in altri punti dove è già passato e magari perdere tempo e passare più tardi dove effettivamente sarebbe dovuto andare subito. Stesso discorso per la modalità lavapavimenti. Infatti distribuisce molto bene l'acqua sulla superficie. Qua troviamo anche incluse due straccetti di questo tipo quindi bene. Il problema è sempre lì che senza la mappatura degli ambienti se vogliamo farlo passare solo in determinate zone dobbiamo chiudere porte o mettere i suoi ostacoli quindi in alcuni casi per me è un po' scomodo. Se avesse avuto anche lui qua sopra la mappatura laser sarebbe stato davvero il top. Ora lui in che fascia di prezzo si colloca diciamo attorno ai 200-250€. Quindi è sostanzialmente meno della metà rispetto al Q6. Se non vi interessa per forza la mappatura delle stanze quindi quando lo fate partire sapete che deve già girare dappertutto e non avete bisogno di mandarlo solo in giro in ambienti singoli per volta e siete sicuri che andrete ad utilizzare il lavapavimenti con questo accessorio allora beh vi direi di andare su questo modello. Se invece non vi interessa molto che ci pensi lui a lavare i pavimenti preferite qualcosa di più smart qualcosa di più intelligente che con il suo serbatoio della base potete lasciare lì per un mese e scordarvi dell'esistenza beh allora in quel caso diciamo che lui è decisamente meglio e vale i soldi che costa in più. Quindi detto questo spero di avervi chiarito un po' le idee spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. In tal caso vi invito a lasciare un bel like e se non lo avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale. Noi come al solito ci rivediamo alla prossima e ciao a tutti!